Nel finale sicuramente due episodi, due episodi sono due tiri dove non abbiamo fatto canestro e dove invece sono stati bravissimi loro con due canestre pesanti di Tambone e di Marx che hanno chiuso la partita. Questo è proprio l'ultimo giro di lancette. Per quanto riguarda l'andamento della gara abbiamo pagato un po' di emozione, abbiamo sbagliato dei tiri che solitamente non sbagliamo, i nostri tiri, le nostre cose e questo ci dà fiducia perché abbiamo fatto la nostra partita giocando al nostro ritmo, andando nelle nostre soluzioni e facendo quello che volevamo fare. Quindi credo che abbiamo giocato una buona partita, potevamo vincere, la serie è molto lunga e con questo approccio andiamo a gara 2 sistemando solo piccoli dettagli. Questo è un particolare importante perché a volte devi cambiare tante cose, noi ne cambieremo poche. Credo che sarà un'evoluzione naturale, un'evoluzione naturale di giocatori che giocano una seconda partita di playoff e che quindi superano il primo piccolo ostacolo che è sempre quello del rookie e dell'esordio e dell'essere in una competizione, in una situazione nuova perché continuiamo a dire, diciamo, ed è giusto che è così che i playoff sono un campionato diverso e quindi adesso siamo dentro la serie e questo sarà il cambiamento.